Buongiorno, 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 buongiorno. Sono sempre io che comunico la mia immagine, la mando nel lettere. È un'immagine mattutina, è un'immagine dopo una serata passata con gli amici di San Martino. Io sono della Fides, sono uno dei creatori della Fides, faccio medico e trasfusionista. Ho fatto tante raccolte sangue, sono io stesso un donatore. Mando in etare queste immagini mie, anche un po' stravolta, perché l'immagine in cravatta e camicia, l'immagine pulita, l'immagine... A proposito, abbiamo anche la mia cagnolina, Molly, che viene a trovarmi. Stamattina si è fatto il suo giretto ed è andata in giro a fare i suoi bisognini da sola, poi torna a casa, perché la libertà non vale solo per gli uomini, ma anche per queste creature che il Signore ci ha dato per stare più felici. Quest'immagine deve dimostrare che è più bella lei che io. Su queste non ci sono dubbi. Però, voglio dire, noi dobbiamo comunque darci buongiorno. E su Facebook io mi aspetto qualche mi piace, però lì, già lì metterò la maschera, insomma, non apparirò così. Però bisogna dare se stessi, per essere sinceri, per essere apprezzati. Beh, con questa faccia penso io che sto dando il massimo di me stesso, senza trucco e senza inganno, con la mia Molly.